Non decolla la raccolta differenziata in Campania, è quanto emerge dal report diffuso da Lega Ambiente nell'ambito del tradizionale appuntamento con l'Ecoforum Rifiuti. Negli ultimi cinque anni la differenziata ha subito una fase di stallo che ha prodotto una crescita lentissima e pari al 2,5%, numeri che, secondo l'Associazione Ambientalista, testimoniano la mancanza di una governanza autorevole del ciclo integrato dei rifiuti. In Campania i comuni nei quali la differenziata funziona correttamente sono 105, due in meno rispetto allo scorso anno, mentre crescono i comuni ricicloni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta. La provincia più virtuosa è Benevento, che con il suo 46% annoverà ben 36 comuni free, segue la provincia di Salerno con il 29%, mentre più distaccate sono le province di Avellino, Caserta e Napoli. Nel corso dell'Ecoforum sono stati assegnati anche riconoscimenti speciali per i comuni ricicloni, tra i centri al di sotto dei 5.000 abitanti, Domicella è il più virtuoso, premiati anche Montesarchio, Albanella e Baronissi. Ma secondo Legambiente c'è ancora tanto da lavorare per incrementare la crescita della differenziata in Campania. Naturalmente non possiamo fare uno stile in ogni provincia, va bene, ma non possiamo fare un impianto di trattamento del vetro per ogni ETA o un impianto del legno per ogni ETA, cioè occorre un coordinamento e noi stiamo cercando di avere una politica di coordinamento a livello regionale.